Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignone. In A1 coda in aumento in direzione Roma per un incidente che riguarda un mezzo pesante al chilometro 325 tra Firenze Sud e Valdarno. In A12 le aree di servizio Magra e Versilia sono chiuse in entrambe le direzioni. In direzione Genova chiusa la stazione di Castagnolo. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze per lavori in corso, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Badesse e Siena Nord. Sulla strada regionale Duecassia per lavori, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impluneta. In via 27 Aprile angolo via Santa Reparata, Firenze, restringimento di carreggiata e coda per incidente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie a tutti!